L'incidente questa mattina, venerdì 22 giugno, poco prima delle 11, in via Carlo Alberto Dorio Canavese, un trattore condotto da un 74enne residente a Moncalieri, con una seconda casa nelle campagne canavesane, mentre stava percorrendo la via a urtato contro uno spigolo. La ruota si è staccata e il trattore si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vicini del fuoco di Brea, il Drago Isaf, la Croce Rossa di Castellamonte, la Croce Verde San Giustese e i carabinieri della Radiomobile di Chivasso. L'uomo, liberato dal trattore, è stato affidato alle cure dei sanitari, che dopo averlo stabilizzato lo hanno portato in ospedale di Brea, non pare in pericolo di vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.